Don Chisciotte della Mancia, libro secondo, capitolo cinquantasettesimo. Come piovvero sopra Don Chisciotte tante venture che l'una non aspettava l'altra. Quando Don Chisciotte si vide in campagna aperta, libero e sbarazzato dagli amorosi detti di Altisidora, pareva gli di trovarsi nel suo centro e di sentirsi rinnovare il coraggio per proseguire le gesta delle sue cavallerie. Rivoltosi a Sancio, gli disse La libertà, o Sancio, è uno dei doni più preziosi dal cielo concesso agli uomini. I tesori tutti che si trovano in terra o che stanno ricoperti dal mare non le si possono agguagliare. E per la libertà come per l'onore si può avventurare la vita, quando per lo contrario la schiavitù è il peggior male che possa arrivare agli uomini. Io dico questo, Sancio, perché tu hai ben veduto coi tuoi occhi le delizie e l'abbondanza da noi godute nel castello orror lasciato. Eppure ti assicuro che in mezzo a quei sontuosi banchetti e a quelle bevande gelate sembravami di essere nello strettoio della fame. Io non gustava di alcuna cosa con quella soddisfazione con cui gustata l'avrei se fosse stata mia propria, mentre l'obbligo del dovere e della retribuzione ai benefici e dalle grazie ricevute sono altrettanti legami che non lasciano campeggiare l'animo libero. Beato colui cui ha dato il cielo un tozzo di pane senz'altro obbligo, fuorché quello di essergli grato. Peraltro, rispose Sancio, con tutto quello che Vossignoria ha detto, mi pare che non sia bene che restino malgraditi d'ugento scudinoro che mi regalò in un borsellino il maggiordomo del duca, i quali, come cordiale e confortativo, io porto applicati sul cuore per tutto quello che ci potrà occorrere, mentre non avremo sempre al nostro comando castelli dove ci siano usate tante carezze, ed è probabile che ci troviamo talvolta in qualche osteria che ci costerà salata. Tra questi ed altri discorsi andavano seguitando il loro cammino cavaliere scudiero quando, dopo avere corso più di una lega, videro che sopra l'erba di un praticello stavano sdraiati nei loro mantelli e quietamente mangiando dodici uomini vestiti da contadini. Tenevano accanto a loro certe tele che sembravano lenzuola bianche, con le quali coprivano qualche altra cosa che vi era sotto, e stavano ritte, distese e distribuite ogni tanti passi. Giunse Don Quixotte presso quei che mangiavano, e dopo, cortesissimo saluto, chiese loro che cosa si trovasse nascosto sotto quelle lenzuola. Uno di essi gli rispose, Sotto a queste tele stanno alcune immagini di rilievo e d'intaglio da servire per una rappresentazione che facciamo nel nostro contado, e le portiamo coperte perché non perdano il lustro, e sulle spalle perché non si rompano. Se vi piacesse, replicò Don Quixotte, io vorrei vederle, perché se le portate con tanta circospezione, convien dire che siano di molto pregio. E come lo sono, soggiunse un altro, e ne si approva il loro valore, che non ve n'ha una che costi meno di due cento scudi, e se vostra signoria se ne vuole meglio persuadere, ora le vedrà coi suoi occhi. Lasciò costui di mangiare, alzò la tela che copriva la prima immagine, ed era quella di San Giorgio a cavallo che calpesta un serpente e gli caccia la lancia nella gola, nell'attitudine di fierezza con cui suol essere dipinto. Il quadro era, come si suol dire, una coppa d'oro. Don Quixotte, vedendolo, disse, Questo cavaliere è stato uno dei più famosi cavalieri erranti che vantar possa la milizia divina. Si chiamò San Giorgio e fu gran difensore delle donzelle. Veggiamo quest'altro. Scoperto che fu, apparì un San Martino a cavallo che divideva con un povero il suo mantello. Lo vide appena Don Quixotte che disse, Anche questo è stato uno dei cristiani venturieri ed io credo che fosse più liberale che valoroso, come tu puoi vederlo chiaramente, o Sancio, perché sta partendo la sua cappa con un povero e gliene dà la metà. Ed io credo che ciò sia seguito d'inverno, che se fosse avvenuto in estate gliel'avrebbe data tutta intera, poiché era molto caritativo. E non sarà per questo, disse Sancio, ma dovette attenersi al proverbio che dice che per dare e avere buon cervello sia da avere. Rise Don Quixotte e disse che levassero un'altra tela e si scoperse il patrono delle spagne a cavallo, con la spada insanguinata, nell'atto d'atterrar mori e di troncar teste. Subito che Don Quixotte lo vide, disse, Questo sì che è cavaliero delle squadre di Cristo. Questo si chiama Diego Ammazzamori, uno dei più valorosi santi e cavalieri che abbia divantato il mondo e che adesso possegga il paradiso. Alzarono altra tela e vide la caduta di San Paolo da cavallo, con le circostanze tutte che sogliono essere dipinte nel quadro della sua conversione. Vedendolo così al vivo raffigurato, che pareva che Cristo gli parlasse e Paolo gli rispondesse, questi, disse Don Quixotte, fu già il maggior nemico che abbia avuto la chiesa di Dio al tempo suo, cambiato poi nel più ardente difensore che vantare potrà giammai la errante cavalleria, santo il più costante fino alla morte, instancabile coltivatore della vigna del Signore, vero dottore delle leggi, cui servono di scuola e di maestro, i cieli e Gesù Cristo medesimo. Non restando altre immagini da vedersi, disse Don Quixotte che ritornassero a ricoprirle, ed a quelli che le portavano soggiunse. «Terrò per buon augurio, fratelli, di aver veduto quello che mi avete permesso di vedere, poiché questi santi cavalieri professarono ciò che professo io medesimo, l'esercizio cioè delle armi, ma passa tra noi questa differenza, che egli no furono santi e pugnarono spiritualmente, ed io sono peccatore e umanamente combatto. Egli no conquistarono il cielo a forza di braccia, perché gran sudore ha bisogno per farne guadagno, ma io sino a questo punto non so veramente quello che io conquisti a forza di travagli, pure se la mia signora Dulcinea del Toboso si liberasse da quello che soffre, allora col migliorarsi della mia ventura e col rassodarmi si lo ha intendimento, potria forse essere che io volgessi i miei passi per migliore strada di quella in cui ora procedo». «Dio lo senta e il peccato sia sordo», soggiunse Sancio. Rimasero maravigliati questi uomini sì dalla figura come del discorso di Don Quixote, senza poter comprendere neppure la metà di quello che egli volesse dire. Finirono di mangiare, caricarono le loro immagini e licenziandosi da Don Quixote proseguirono il loro viaggio. Sancio mostravasi stupefatto, come se non avesse conosciuto il suo padrone, parendogli che non potesse darsi al mondo né storico né storia che non fossero sulle ugne e nella memoria di Don Quixote. E così prese a dirgli «Certamente, signor padron mio, che se questa che oggi ci è successa si può chiamare Ventura, essa è stata delle più blande e delle più quiete che abbiamo avute in tutto il tempo del nostro pellegrinaggio. Ne siamo usciti fuori senza bastonate e senza spaventi, non abbiamo cacciato mano alle spade, non abbiamo battuta la terra stramazzando coi nostri corpi e non siamo rimasti per niente affamati. Si è ringraziato il Dio che ci ha concesso un bene che sarà di buon augurio». «Dici bene, Osancio», soggiunse Don Quixote, «devi però avvertire che tutti i tempi non sono a un modo ne corrono sempre di una stessa foggia e quelli che voi o gente volgare chiamate auguri senza che si fondino sopra alcuna ragione naturale gli uomini savi giudicano che altra cosa non siano fuorché buoni avvenimenti. Uno di questi vostri auguri si alza il mattino, esce di casa e incontra un frate del beato e serafico ordine di San Francesco, ed ecco che, come se avesse incontrato un corvo, volta le spalle e torna subito a casa. Un altro è a tavola e gli si versa il sale, ed ecco che gli si diffonde la malinconia per il cuore come se la natura avesse disposto di dare segni delle future calamità con cose sì inconcludenti. L'uomo prudente cristiano non ha da indagare le disposizioni del cielo in queste sciocche fissazioni. Quando Cesare giunse in Africa, saltò fuori dalla nave, inciampò e cadde. I suoi soldati ebbero la caduta per malaugurio, ma egli abbracciando quel terreno disse «Tu, Africa, non mi scapperai più dalle mani, poiché sì ti tengo stretta ed abbracciata. Ora dunque, sancio mio, persisti tu a credere che le figure di questa mattina fossero di buon augurio. Io lo credo fermamente e vorrei che Vossignoria mi dicesse per quale motivo, quando vogliono dare qualche battaglia, invocando San Don Diego a Mazzamori, dicono Santiago e Serra Spagna. La Spagna è forse aperta in modo che occorra serrarla. Che cerimonia è questa? Tu sei pure un semplicione, o sancio, rispose Don Chisciotte. Sappi che Dio ha concesso alle Spagne per protettore e padrono quel gran cavaliere della Croce Rossa che la salvò nei conflitti fra gli spagnuoli ed i mori, e quindi è invocato in tutte le occasioni di qualche cimento. E molte volte fu visto visibilmente assalire, rovinare, distruggere, annichilire, squadroni interi degli agareni, e potrei addurtene mille esempi che si trovano nelle vere nostre istorie. Sancio mutò discorso e disse al suo padrone «Io sono stato trasecolato, signor mio, dall'ardire e dal tisidora, donzella della duchessa, e bisognerà confessare che le abbia proprio trafitto il cuore colui che chiamano amore, il quale dicono che è fraschetta cecolina o dorba affatto, tal che se piglia per bersaglio un cuore, lo coglie, per piccolo che sia, e lo passa tosto da banda a banda con le sue frecce. Io aveva sentito a dire che le frecce si rintuzzano o si spuntano nel pudore e nel contegno delle ragazze, ma in questa altisidora si aguzzano piuttosto che spuntarsi. «Bisogna ricordarsi, Sancio», disse Don Quisciotte, «Che amore non guarda rispetti né termini di ragione, egli è come la morte, che tanto assale le sublimi torri dei re come le capanne dei pastori, quando si impadronisce di un cuore prima di ogni altra cosa ne allontana il timore e la vergogna». E così fu nel nostro caso, in cui altisidora dichiarò quei suoi desideri che generarono nel mio petto piuttosto confusione che pietò. «Vossignoria è una tigre», disse Sancio, «e di una barbarie inaudita. Se fosse toccata a me questa sorte, mi sarei bene arreso io e sarei io diventato suo vassallo. Che cuore di marmo, che viscere di bronzo! Non so poi capire che cosa mai quella donzella abbia potuto vedere in vossignoria che le faceste tanta impressione da renderla innamorata. Dove sono quella galanteria, quel brio, quelle grazie, quel sembiante, quel tutto insieme che ferisce e conquide? Ogni volta che io mi pongo a guardare vossignoria dalla punta dei piedi sino all'ultimo capello della testa, vedo cose da far piuttosto spaventare che innamorare. «E se è vero che la bellezza è la prima e la principal cosa che allaccia, non avendo né vossignoria neppure un'ombra, quanto a me non so capire di che diavolo mai la poveretta restasse innamorata». «Devi considerare, oh Sancio», rispose Don Quixote, «che due sorte di bellezze vi sono, l'una dell'anima, l'altra del corpo. campeggia la prima e si spiega nell'intendimento, nell'onestà, nel buon procedere, nella liberalità e buona educazione e possono queste doti tutte allignare in un uomo o donna di brutte forme? E quando si allanimo unicamente a questa bellezza e non già a quella del corpo, si suole pervenire ad un amore vivissimo e imperioso? «Benio, mi avviso, Sancio, di non essere bello, ma conosco ancora che non sono né deforme né contraffatto, e dall'uomo di vaglia basta non essere mostruoso per ottenere corrispondenza d'affetti, sempre che però egli possegga le doti dell'animo che ti ho detto». Facendo questi discorsi si inoltrarono in un bosco posto fuori della strada maestra ed improvviso senza aspettarselo si trovò Don Chisciotte avvolto in certe reti di filo verde che da un albero all'altro erano tese e senza potersi immaginare che cosa si fosse disse a Sancio «Sembrami che l'affare di queste reti debba essere una delle più nuove avventure che possano accadere. Scommetterei la mia vita che gli incantatori che mi perseguitano cercano ora di ravvilupparmi in queste reti perché io non proseguo il mio viaggio e per vendicarsi della rigidezza che verso al Tisidoro ho mostrato. Ma sappiano costoro che se queste reti come sono di filo così fossero di diamanti durissimi e più tenaci di quella con cui il geloso iddio dei fabbri avviluppò Venere e Marte io non di meno le romperei come se fossero o di giunco marino o di fila di bambagia». In così dire voleva passare innanzi e rompere ogni cosa quando improvvisamente gli si fecero avanti sbalzando fuori tra gli alberi due leggiadre pastorelle o al manco come tali vestite se non che le pellicce e zimarre erano di broccato finissimo ed erano piuttosto bellissimi guarnelli tutti ornati di tabidoro ondeggiavano i capelli sciolti sulle loro spalle che potevano gareggiare in biondezza coi raggi del sole ed erano coronati da ghirlande con teste di verde alloro e di rosso amaranto la loro età poteva credersi né minore di 15 né maggiore di 18 anni questa apparizione incantò Don Chisciotte stordì Sancio Pancia e pareva che restasse il sole nel suo corso per compiacenza tutti i quattro stettero muti dopo breve intervallo però la prima a rompere il silenzio fu una delle due pastorelle la quale disse a Don Chisciotte fermate il passo signor cavaliere e non rompete le reti che qua stanno tese non per vostro danno ma per nostro spasso voi dimanderete forse perché vi sono poste ed io prevenendo la dimanda ve ne dico la cagione due leghe di qua lontano è un paese dove sono molti ricchi e nobili personaggi tra loro amici e parenti coi loro figlioli con le mogli e coi vicini vollero venire a spasso da questa parte che è una delle più amene di tutti i contorni abbiamo formato tra noi una nuova e pastorale arcadia travestendo noi fanciulle da pastorelle ed i giovani da pastori e abbiamo apprese a memoria due egloghe l'una del famoso garcilasso e l'altra dell'eccellentissimo camoens nel suo idioma portoghese che vorremmo rappresentare siamo arrivate qua ieri ed abbiamo tra queste frondi drizzate le tende cercando le sponde dei ruscelli che fertilizzano questi prati e cominciamo iersera dal tendere le reti per fare inganno ai semplici augelletti che scacciati e spaventati dal nostro rumore vi incapperanno se vorrete o signore essere nostro ospite sarete da tutti accolto con cortesia che per adesso non hanno da entrare in questo luogo né malinconie né noie tacque non disse altro ed occhi sciotte così rispose oh bellissima signora non dovette certamente restare più maravigliato a teone quando d'improvviso vide Diana bagnarsi nelle acque di quello che io nel vedere la vostra leggiadria lodo i passatempi che mi avete accennati gradisco le vostre offerte e se qualche cosa potessi fare per obbedirvi vogliate comandarmi che io sono uomo la cui professione è dimostrarsi grato e di essere benefattore ad ogni sorta di gente ed in particolare alle genti che le vostre persone rappresentano se queste reti le quali non possono occupare che breve spazio di terreno occupassero tutta la circonferenza della terra io andrei a cercare nuovi mondi dove passare senza romperle e perché vi piaccia dare qualche fede a queste ispirate mie parole vi basti considerare che gli è Don Quixote della Mancia quello che adesso vi parla già che credo che questo suo nome non arriverà nuovo ai vostri orecchi dè dolcissima amica mia disse allora la pastorella alla sua compagna che ventura è mai questa nostra vedi tu questo signore che ci sta dinanzi orbene sappi che il più valoroso il più innamorato il più cortese cavaliere che viva al mondo seppure non mente o non inganna un'istoria che si è stampata delle sue prodezze e che io ho letta e scommetterei altresì che questo buon galantuomo che sta in sua compagnia è un tale sancio pancia suo scudiere che non appare in graziosità è verissimo disse sancio io sono appunto quel grazioso e quel scudiere che dicevo signoria e questo signore è il mio padrone quello stesso don chisciotte della mancia istoriato e riferito dè l'altra soggiunse supplichiamolo amica che egli non ci abbandoni che i nostri genitori e fratelli ne avranno infinito piacere ed io pure ho sentito raccontare delle grazie e delle prodezze che tu mi hai detto ed anche mi è stato riferito che il più costante e il più leale innamorato che si conosca e che la sua dama è una tale dulcinea del toboso la quale vince in bellezza ogni altra donna di spagna e bene ha ragione se le dà questo vanto disse don chisciotte qualora non dovesse mettersi in dubbio che la incomparabile bellezza vostra ma non vogliate ora mie signore tenermi ozioso perché gli obblighi della mia professione non mi permettono avere un patto di poter riposare sopra giunse in questo un fratello di una delle due pastorelle vestito egli pure da pastore con leggiadria e bel garbo corrispondente al vestire delle fanciulle ed elleno gli raccontarono che quel cavaliere con cui conferivano non era niente manco che lo stesso valoroso don chisciotte della mancia e l'altro il suo scudiere sancio di cui aveva egli pure notizia avendo letto la loro storia il galante pastore insistette pregando che don chisciotte si recasse con lui alle sue tende né questi seppe rifiutarsi più oltre e si fece a seguirlo venne intanto il momento della caccia ed empironsi le reti di augelli di varie specie che nel periglio cadevano da cui tentavano di fuggire si adunarono in quel sito più di trenta persone tutte bizzarramente vestite da pastori e in un momento si divulgò all'intorno che erano i vigiunti don chisciotte il suo scudiere di che non poca fu la contentezza perché tutti sapevano bene le loro gesta passarono dopo la caccia alle tende dove trovarono apprestate tavole con abbondanza e con splendidezza ed onorarono don chisciotte assegnandogli il primo posto tutti lo guardavano e davano segni di ammirazione terminato il convito don chisciotte si alzò e gravemente disse vogliono alcuni che la superbia sia uno dei peccati più sconci che si commettano dagli uomini ma io sostengo che più grave è l'ingratitudine attendendomi al detto che l'inferno è pieno di ingrati per quanto mi è stato possibile cercai sempre di non essere accusato di questa reità sino da quando cominciò in me a spiegarsi il discernimento e quando non posso ricambiare i benefici che impartiti mi vengono supplisco almeno con la volontà e se questo non basta li divulgo per ogni dove mentre chi fa palese bandisce il bene che riceve prova che lo ricambierebbe volentieri se ciò stesse in sua mano avviene d'ordinario che quelli che ricevono siano inferiori a quelli che danno dio signore sovrano di tutti perché benefica tutti né i doni dell'uomo si possono agguagliare a quelli di dio per la loro infinita distanza onde che la nostra ristrettezza ed impotenza fa in qualche guisa le veci della gratitudine pertanto su queste basi grato com'io sono agli infiniti vostri favori non potendovi corrispondere in ugual misura e contenendomi nei ristretti confini della mia possibilità offro quello che posso e che tengo di mia natura e dichiaro che mi tratterrò per due giorni naturali in mezzo a questa strada maestra che va a Saragozza per sostenere a prova con chi che sia che queste signore pastorelle in maschera che si trovano qua presenti sono le più vaghe cortesi donzelle che vanti il mondo tranne unicamente la senza pari dolcinea del toboso la sola signora dei mie pensieri si ha detto con buona pace di quanti e quante mi ascoltano sentendo questo sancio che con somma attenzione era stato ascoltandolo mandata fuori una gran voce soggiunse come mai può darsi che vi sieno al mondo persone ostinate nel dire e nel giurare che questo mio signor padrone sia pazzo mi rispondano di grazia le signorie loro signori pastori c'è egli curato in villa per giudizioso e saputo che egli sia che possa dire ciò che il mio padrone ha detto c'è egli cavaliere errante per quanto voglia fare lo smargiasso che possa offrire più di quello che il mio signore ha si voltò a sancio e infastidito e tutto acceso in viso gli disse c'è egli signor sancio caro uomo nel mondo che possa dire che tu non sei un vero balordo foderato di balordaggine con non so che di passamani di malizioso di vigliacco che ti ordina di mischiarti nei fatti miei e di istrologare qua se io sia savio o scempiato taci non voglio risposte metti la sella ronzinante se non l'ha e andiamo a dare esecuzione alle mie offerte che con la ragione che milita a mio favore puoi fare tuo conto che siano belli e vinti tutti coloro che volessero negarmela con grande furia e con mostra di sdegno si alzò dalla sedia restarono attoniti tutti circostanti essendo in dubbio se dovessero tenerlo per pazzo o per giudizioso si affrettò ognuno a renderlo persuaso che non occorrevano tante sue offerte e che tutti bene conoscevano la gradita sua volontà ne vera bisogno di altre prove per conoscere l'animo suo valoroso bastando quelle che nell'istoria delle sue prodezze si raccontavano ad onta di tutto questo Don Chisciotte volle eseguire il suo intento montò su ronzinante e imbracciato lo scudo e pigliata la lancia si pose nel bel mezzo della strada maestra che dal verde prato non era lontana sancio sancio gli andò dietro col sole ardo con tutta la pastorale comitiva desiderosa di vedere dove andasse a parare la sua ardimentosa e non mai più udita proposta postossi pertanto Don Chisciotte in mezzo alla strada come si è detto ferì l'aria con queste parole o voi altri passeggeri e viandanti cavalieri scudieri genti a piedi e da cavallo che dovrete transitare per questa via o passare nei due giorni che a questo succedono sappiate che Don Chisciotte della Mancia cavaliere errante sta qui per difendere per sostenere che le bellezze e cortesie tutte del mondo sono superate da quelle delle ninfe abitatrici di questi boschi e di questi prati eccettuata soltanto la signora dell'anima mia Dulcinea del Toboso che fosse di contrario parere venga innanzi che lo aspetto di pie fermo due volte ripetela di sfida ma non vi fu venturiere che sentisse queste parole la fortuna però che andava guidando le sue cose di bene in meglio dispose che di lì a poco si scoprisse sulla strada una moltitudine di uomini a cavallo la maggior parte con lancia in mano camminando tutti serrati in truppa e a gran passo non furono veduti appena da quelli che stavano appresso a Don Quisciotte che volte le spalle si sviarono lungi dalla strada poiché conobbero che se li avessero attesi avrebbe potuto succedere qualche malanno il solo Don Quisciotte con intrepido cuore non si mosse né punto né poco e sancio pancia si fece scudo delle groppe di ronzirante arrivò una mandra condotta da vaccai con lance e quello che la precedeva disse a Don Quisciotte tirati da banda sinaccio che questi tori ti faranno in pezzi che osi tu dire canaglia rispose Don Quisciotte che importa a me della forza dei tori siano anche più feroci di quelli che nutrisce nelle sue rive lo sciarama ma l'andrini confessate anche a squadrone serrato che è vero quanto poco fa pubblicato o vi sfido meco a singolar tenzone non ebbe il baccaio tempo di poterli rispondere né Don Quisciotte di ritirarsi ancorché avesse voluto perché la truppa dei ferocitori e quella dei domestici capretti con la moltitudine dei vaccai che li conducevano al paese dove seguir doveva una caccia nel di seguente passarono addirittura sopra i corpi di Don Quisciotte e di Sancio di Ronzinante e del Leardo facendoli tutti rotolare per terra Sancio restò fracassato Don Quisciotte impaurito pestò il Leardo e Ronzinante non troppo cattolico finalmente sebbene con non poca fatica si rizzarono tutti e Don Quisciotte con gran fretta inciappando qua e cadendo la cominciò a correre dietro a quella mandra e ad esclamare fermatevi aspettate canaglia vera che qua vi invita un cavaliere solo che non viene a patti né del parere di quelli che dicono al nemico che fugge fagli il ponte d'argento non per questo si fermarono i frettolosi corridori ne fecero più conto delle sue bravate che dei nugoli dell'anno passato la stanchezza obbligò Don Quisciotte a fermarsi e più incollerito che vendicato si sdraiò in mezzo alla strada aspettando che Sancio e Ronzinante e Il Leardo lo raggiungessero vennero rimontarono a cavallo padrone e servitore senza andare a togliere licenza dalla finto contraffatta Arcadia e con più vergogna che gusto seguitarono il loro cammino ti è piaciuto il video? allora metti like sostieni il canale è sufficiente un semplice like vuoi farmi sapere cosa ne pensi? lascia un commento ti risponderò anche questo può aiutare il canale e se ti è piaciuto questo audiolibro iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella grazie